In una piazza vicino dove vivo hanno installato un nuovo monumento. Questo è causa di eccitazione, in quanto di solito questi riconoscimenti vengono dati a coloro che hanno contribuito in modo illustre alla comunità in vari campi, da quello religioso a quello culturale. Penso per esempio, vicino alla mia abitazione, ai monumenti ai poeti Giuseppe Gioacchino Belli e Tridussa, oppure quello all'attrice Anna Magnani. Ovviamente non si contano i monumenti di tale fatta dedicati ai santi e alle sante che si trovano nelle tante chiese del circondario. In questo caso il soggetto del monumento è stato diverso, in un certo senso direi singolare. È stato fatto un monumento alla porchetta, non al maiale in se stesso, cosa su cui ci sarebbe stato comunque da discutere, visto che il simbolo del quartiere sarebbe il leone, ma proprio alla porchetta, eppure affettata. Potrebbe essere considerato un omaggio alla cucina romana, ma allora perché non la carbonara o la matriciana? Alcuni sono stati un poco perplessi del fatto che in una bellissima piazza del mio quartiere, arrecchita da una bella chiesa sullo sfondo e dai caratteristici ristoranti dove gustare la cucina locale, ci sia ora a troneggiare un maiale affettato. In un quartiere con una storia artistica e religiosa illustre come il mio, di soggetti da ritrarre ce ne sarebbero a migliaia. Pensiamo al recentemente scomparso musicista Ennio Morricone, nato proprio qui, oppure al poeta Raffaele Alberti, vissuto a poche centinaia di metri dalla porchetta. Da un altro lato, però, mi sono rallegrato che si sia fatto un monumento non politically correct, che celebra la gioia del mangiare senza preoccuparsi troppo di animalisti, vegetariani, vegani e via dicendo, che pure hanno fatto sentire la loro sentita partecipazione all'evento. Insomma, qualcosa di buono bisogna pure trovare in queste occasioni, qualcosa di edificante da pensare ogni volta che fisserò negli occhi quel povero maiale consegnato per sempre agli estetici languori della posterità.